Immagini da brivido per i tifosi del Brasile. Neymar esce zoppicando dall'allenamento della Selesao, accompagnato dai sanitari della Nazionale Verde Oro. L'attaccante del Paris Saint-Germain è stato costretto a lasciare il campo dopo un quarto d'ora di Torello per un dolore preoccupante alla caviglia del piede destro. Non coinvolto quindi il dito dello stesso piede operato a marzo. Questo dolore alla caviglia è forse la pesante eredità della partita contro la Svizzera, dove il numero 10 del Brasile è stato spesso toccato duramente. La prossima gara della Selesao è in programma venerdì pomeriggio. Vedremo se per allora Neymar sarà abile e arruolato.